Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza nella seduta di martedì 27 e mercoledì 28 giugno la seconda variazione del bilancio di previsione 2023-2025, gli atti normativi collegati e l'integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023. Hanno votato a favore Partito Democratico e Italia Viva. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CHEU. Così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area SIN-SIR della provincia di Massacarrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesib. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche ai interventi più puntuali. Le variazioni sono determinate soprattutto dalla disponibilità di risorse che di volta in volta vengono a maturare nel corso dell'anno e soprattutto dei trasferimenti che arrivano dallo Stato. Poiché la Regione Toscana puntualmente arriva sempre all'elaborazione della propria legge di bilancio prima della fine dell'anno come è giusto che sia, quando ancora però non è chiaro il quadro dei trasferimenti da parte dello Stato si rende poi via via necessario adeguare e assestare il bilancio alle disponibilità che maturano nel corso dell'anno. Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023 non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato, le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale, su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEFRE e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. Contrari i gruppi di opposizione presenti al voto, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Italia Domani. Sicuramente vi iniziere la parte delle partecipate, c'è un DEFRE che non tocca il tema di Toscana Strada, è un tema molto dibattuto negli ultimi mesi che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiaro la finalità e la fine che farà fedi Toscana perché la regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di Sici però ci risulta che ci sia un'altra regione che partecipe delle quote che è la regione Umbria che non sia in questo momento intenzionata a vendere. Non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana. Però voglio anche evidenziare da ex presidente della commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata è appunto il CHEU che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Questa era presentata come una variazione di bilancio di poca valenza, piccola, in realtà non sposta grandi patrimoni. Però ci sono due criticità enormi a mio modo di vedere che è la prima il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in regione toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta. nel documento economico e finanziario del 2023 all'attrazione di fondi di investimento in Toscana si dedica a malapena una pagina e mezzo e questo arriva in controtendenza con i dati che in questi giorni ci dicono dati da Banca Italia, non da Fratelli Italia, ci mancherebbe altro, ci dicono che la regione toscana è la regione che a fronte di un'Italia che torna a crescere, che torna competitiva, che è il paese che più cresce in Europa la Toscana è la regione italiana che cresce meno, è l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i quattro punti di PIL persi con la pandemia, tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019 la Toscana è l'unica regione attualmente in regressione. Attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale. Una variazione di bilancio di 40 milioni di euro, considerando che il bilancio complessivo della regione sui 13 miliardi naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante. In questo caso come in altri si tratta di una semplice spartizione di risorse, in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la regione toscana, più volte l'abbiamo denunciato non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali, anche dei comuni su cui vai a dare i contributi non abbia appunto visione, non abbia una programmazione, non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse. È una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati ormai da due anni e mezzo uno schema che vede interventi totalmente disomogene e uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali, cosa che non contestiamo tanto nel merito perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni soprattutto di questi tempi e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti e che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali. La qualità dell'aria è un tema fondamentale e tanti spunti nella risoluzione votata al Comitato Europeo delle Regioni arrivano anche dalla Toscana. Questa è la dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo a margine dei lavori della plenaria del CDR a Bruxelles. Il tema del dibattito è come offrire ai cittadini un livello di vita migliore, quali sono gli investimenti da fare, qual è la direzione da intraprendere e come investire in tecnologie che consentano di ridurre le emissioni. Oggi abbiamo affrontato due questioni fondamentali per la vita dei cittadini. La prima è quella della qualità dell'aria, come noi possiamo offrire alle cittadine e ai cittadini dei nostri territori un livello di vita migliore, quali sono gli investimenti da fare, qual è la direzione da intraprendere e soprattutto come noi dobbiamo investire in tecnologie che consentono di ridurre le emissioni. E anche il secondo atto va in questa direzione, la direzione di dare risposte affinché nascano imprese green, non le imprese che inquinano tanto come sta avvenendo fino ad ora. Tutto questo deve avvenire non ricadendo sulle spalle dei cittadini, con costi che devono sostenere e soprattutto le persone che soffrono di più. Oggi entrando in aula ho avuto modo di passare nella galleria dei presidenti e di vedere l'immagine di David Sassoli, un grande uomo delle istituzioni, che ci ha mandato un messaggio semplice, avvicinare con le sue parole il modo di lavorare l'Europa ai cittadini e che è riuscito a lavorare nella direzione di cambiare un po' la cultura anche all'interno del Parlamento europeo e di portare tutti nella riduzione di investimenti per ridurre le disuguaglianze. Ecco, tutto questo deve tenersi insieme, tutta questa è la nostra idea d'Europa. Il tema è quello della transizione, di come noi riusciamo a tenere il presente, il futuro, tenendo però il presente, facendo in modo che quelle imprese riescano a cambiare, sostenendo finanziamenti che vanno in una direzione green, come dicevo prima. E sulla qualità dell'area io sono contento che tanti degli spunti che troviamo nella nostra risoluzione che andremo a votare, sono spunti che arrivano anche dalla nostra regione, dalla Toscana. Abbiamo appena presentato una comunicazione al Consiglio in questa direzione e tanti di quei punti che ho detto prima sono punti che prendono proprio spunto e idea dal nostro lavoro. I governatori regionali chiedono al Ministro della Sanità 3 miliardi in più per finanziare i servizi regionali. Lo sottolinea il Presidente Gianni a margine del Consiglio regionale. Io penso sia all'inizio, se dovessimo vedere quanto è necessario per la sanità, oggi ci sono 126 miliardi nel Fondo Sanitario Nazionale e la cifra dovrebbe essere di circa 150 miliardi per portarci al 7% del prodotto interno lordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto deve essere a percentuale giusta. Se invece che quei 20-25 miliardi necessari ne arrivano 3 o 4, comunque tutto fa, è utile che il Ministro abbia in qualche modo raccolto il grido d'allarme della riunione che facciamo giovedì scorso in cui i governatori delle regioni all'unisono, centro-destra, centro-sinistra, all'unisono hanno detto che se vogliamo un sistema sanitario di cui essere orgogliosi, pubblico e universalistico, che non fa differenze fra il povero e il ricco, le risorse lo Stato ce le deve mettere. Mi sembra sia il segnale che il Ministro abbia raccolto. Il Governo ha aumentato il Fondo Nazionale per la Sanità, ribatte il consigliere di Fratelli d'Italia Petrucci. Nel 2019 pre-Covid era di 114,5 miliardi di euro l'anno, nel 2023 è di 126 miliardi l'anno, nel 2024 verrà finanziato di 128 miliardi l'anno. Significa che rispetto al pre-Covid il Governo Meloni mette nella Sanità Nazionale 14 miliardi di euro in più. Quindi noi chiediamo a Gianni, a Bezzini, alla maggioranza, quando chiedete più soldi, per cosa li chiedete? Perché se li chiedete per aumentare gli stipendi dei medici, degli infermieri, degli ossa, dei pronto soccorsi, noi ci mettiamo la firma sotto. Se gli chiedete per aumentare i servizi territoriali e domiciliari, per evitare che le persone vadano a ricoverarsi in ospedale quando potrebbero essere curate a casa, noi ci mettiamo la firma sotto. Ma se quei soldi dovessero servire per aumentare i posti di potere che avete creato in questi anni, per creare gli oltre 2.000 primari che ci sono in Toscana, per creare un ulteriore cat, un ulteriore centro di potere all'interno della Sanità Toscana, ecco noi rispetto a questo siamo contrari, perché noi riteniamo che non sia sufficiente chiedere più soldi, ma sia necessario cambiare i modelli organizzativi della Sanità Toscana. Il rischio di stare in carcere quando il disagio psichico è insopportabile. È il titolo del convegno che si è svolto all'auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso mercoledì 28 giugno, promosso dal Consiglio regionale, dal garante dei diritti dei detenuti, dalla Camera Penale di Firenze. È un tema di stretta attualità, è un tema fondamentale, è un tema che scuote le coscienze, su cui spesso ciascuno di noi, la politica, le istituzioni non fa tutto quello che può fare. Ogni giorno dai fatti di cronaca emerge chiaramente che il fenomeno del disagio psichico all'interno delle nostre carceri sia da affrontare con atti concreti. Io, diciamo, quando mi trovo a parlare di questioni come queste, della vita nelle carceri, io mi trovo spesso a ripetere che, diciamo, e non mi stancherò mai di farlo, che il grado di civiltà di un paese, di una regione si misura con il livello delle nostre, le condizioni delle nostre carceri. Il carcere per me deve essere davvero luogo di rieducazione, luogo di reinserimento, un luogo in cui bisogna fare in modo che le persone, quelle donne e quegli uomini che purtroppo devono vivere parte della loro vita all'interno delle carceri possano usare come momento di crescita, come momento per poter tornare alla vita di ogni giorno migliori. Io, su questo, guardate, sono davvero orgoglioso di vivere in una regione come la Toscana, che è sempre stata una terra di diritti, che non si è mai voltata all'altra parte. Siamo stati la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte, pena di morte che, come sapete, c'è ancora la metà degli stati, diciamo, di tutto il mondo. Mi auguro che alla fine di questo convegno ci siano un po' di atti che possano essere utili per il nostro lavoro, ma soprattutto per il lavoro dei legislatori nazionali, perché è davvero lì quello, il luogo, dove si può cercare di dare una svolta, perché nessuno di noi può e deve voltarsi dall'altra parte. Grazie a tutti.